Merita Business Podcast puntata numero 33 Chiaramente però ci sono molte altre cose che Telegram ha, che Whatsapp non ha che dal mio punto di vista hanno una potenzialità maggiore sicuramente fanno la differenza per un uso da un punto di vista business Benvenuti, benvenuti, benvenuti io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita Business Podcast il podcast in cui scopriamo come usare internet per far crescere il nostro business Vuoi lavorare da qualsiasi computer come se fosse il tuo? Con Safety Cloud Virtual Desktop puoi lavorare comodamente con le tue applicazioni i tuoi dati e il tuo desktop su ogni dispositivo, anche mobile visita safetycloud.it slash merita per provare Safety Cloud ed avere così diritto allo sconto esclusivo riservato ai follower di questo podcast Eccoci qua su Merita Business Podcast La maggior parte di noi riceve quotidianamente messaggi sul proprio cellulare Un tempo arrivavano gli sms e poi sono giunti a mandarci messaggi in messenger, i whatsapp e poi tutti gli altri compreso anche Telegram che è l'argomento della puntata di oggi Oggi infatti è con noi Giada Centofanti che ci aiuterà a comprendere meglio questa nuova app di messaggistica Per chi non conoscesse Giada Centofanti, Giada è una giornalista che da oltre 10 anni vive nel settore della comunicazione Insieme a Giada scopriremo quanto questa nuova applicazione potrà rivoluzionare la nostra attività di marketing e di assistenza ai clienti Giada benvenuta su Merita Ciao Giorgio, grazie, ciao a tutti Ciao, ciao Giada Oggi parliamo di Telegram, ci racconti che cos'è e quando nasce? Allora, Telegram fra poco compie tre anni, è piccolino ancora L'hanno lanciato due fratelli russi che si chiamano Pavel e Nikolai Durov a metà agosto del 2013 che forse non dicono tanto a noi italiani ma ai più attenti dovrebbero suonare noti nel senso che loro sono i fondatori di VK, VContact, spero che la pronuncia sia giusta che è il maggiore social in Russia e infatti viene chiamato spesso il Facebook russo Telegram è un'applicazione di messaggistica istantanea che però ha tanti assi nella manica anche se in questo momento naturalmente, anche perché è un po' più giovane, ha meno utenti di altre applicazioni vi dico che nel 2013, quindi ricordatevi che è stato lanciato ad agosto 2013 entro la fine del 2013 hanno fatto circa 100.000 utenti attivi al mese nel 2014 sono balzati a 35 milioni di utenti attivi questo probabilmente perché c'è stato il down di Telegram scusatemi di Whatsapp che è il suo maggiore competitor chiaramente che è avvenuto proprio all'inizio del 2014 fra l'altro poco dopo l'annuncio che Facebook avrebbe acquisito Telegram e quest'anno i cari fratelli Durov ci hanno detto che sono arrivati a febbraio di quest'anno a 100 milioni di utenti attivi al mese con 15 milioni di messaggi scambiati al giorno è chiaro che Whatsapp sta su un altro pianeta ancora perché Whatsapp ci dice che ha un miliardo di utenti ma il trend di Telegram è decisamente in crescita certo, bene, questi numeri fanno ben sperare sicuramente sono numeri di una certa consistenza mi domando solo che visto il miliardo di scambi che fa Whatsapp c'era proprio bisogno di Telegram nel senso quali sono le differenze perché aveva senso infilarsi in un progetto come questo? Allora, forse dobbiamo capire un po' di background Pavel Durov e i due fratelli uno sostanzialmente Nicolai e quello nerd cioè quello che si occupa dello sviluppo del software Pavel invece ci ha messo, oltre che la faccia anche le sostanze economiche e ha deciso di supportare il lancio di Telegram perché voleva un mezzo di comunicazione che non fosse accessibile alle agenzie di sicurezza russe e quindi è chiaro che la prima cosa su cui loro hanno puntato è la criptografia chiaramente però ci sono molte altre cose che Telegram ha, che Whatsapp non ha che dal mio punto di vista hanno una potenzialità maggiore sicuramente fanno la differenza per un uso da un punto di vista business in particolare c'è il fatto che Telegram è basato sul cloud ed è multipiattaforma infatti io per esempio in questo momento lo sto usando lo posso usare su Linux ma c'è anche per Windows, per Mac a livello desktop per i telefoni c'è per tutti quanti incluso il povero Windows Phone che in pochi si ricordano di solito e si può cercare anche per esempio da browser esiste ancora una leggenda il Windows Phone scusa il Windows Phone esiste ancora esiste ancora e a quanto pare sviluppano le applicazioni quindi qualcuno c'è per esempio i miei genitori hanno il Windows Phone ma non sanno assolutamente utilizzarlo che fortuna che fortuna che hanno allora sto scherzando torniamo a Telegram invece di celiare stavamo parlando di questa benedetta struttura che è basata sul cloud perché è importante? perché attraverso Telegram noi possiamo scambiarci dei file di qualunque tipo quindi non stiamo parlando solo di foto gattini e video non gattini veri ovviamente gattini in foto ma stiamo parlando di tutti i tipi di documenti che vogliamo fino a un massimo di 1,5 gigabyte sempre che la nostra rete sia così buona da consentirci l'upload di 1,5 gigabyte naturalmente allora quindi questa è una caratteristica che secondo me è importante e può essere sfruttata per comunicazione aziendale ok? dopodiché ci sono i canali che Whatsapp non ha che hanno un utilizzo per un uso marketing perché sono uno strumento particolare di comunicazione uno a molti e quindi riportano il focus su un tipo di trasmissione broadcast dopodiché abbiamo le chat che ha anche Whatsapp però le chat di gruppo di Telegram hanno delle funzioni particolari in più allora si può per esempio rispondere a dei messaggi specifici che è un po' se vi ricordate se frequentate il forum quotare qualcuno in un forum ovvero citare il suo messaggio per fargli capire che noi stiamo rispondendo a quel messaggio specifico poi si possono menzionare gli altri utenti come facciamo già su Twitter e poi ci sono anche gli hashtag che sono cliccabili e ricercabili e secondo anche le FAQ di Telegram servirebbero a dare una sorta di struttura alle grandi chat dei grandi gruppi vi dico anche che Whatsapp ha di recente inserito le risposte però non ha le mention e non ha gli hashtag ancora vediamo se anche loro si adeguano che cosa faranno visto che stanno copiando un pochino di cose risponderanno prima o poi ecco faranno qualcosa anche loro certo dopodiché abbiamo anche gli stickers e i bot che Whatsapp non ha come canali però immagino che ne parleremo fra un pochino di queste cose sì sì ma sì senz'altro anche perché sono una cosa delle più succose o meglio quelle più simpatiche esatto torno un attimo a parlare della criptografia da un punto di vista di sicurezza possiamo dire che Telegram supporta due tipi diversi di criptografia una è server client ed è per tutte le chat normali che siano fra due persone o di gruppo e invece ce n'è una di un altro tipo che si chiama end to end che è solo per le chat segrete questo tipo di chat quindi non viene salvato nel cloud le chat segrete infatti esistono solo sui dispositivi degli utenti e se si vuole supportano l'autodistruzione dei messaggi sempre Whatsapp che si sta adeguando piano piano ad aprile ha introdotto la criptografia end to end senza però fare distinzione tra le chat normali tra le chat segrete cioè la messa di default per tutte le chat ecco tu hai fatto un accenno adesso proprio alla criptografia la domanda che mi viene da dire soprattutto perché noi li usiamo un po' come se fossero degli sms ecco anche per dirci cose riservate o comunque che non vogliamo che vengano diffuse quanto è sicuro questo strumento allora premessa doverosa di criptografia non ci capisco un tubo però ho studiato un po' negli ultimi giorni quindi vi racconto l'idea che mi sono fatta allora il primo tipo di criptografia cioè quella server client che è quella per tutte le chat per quelle normali è basata su un protocollo sviluppato autonomamente dagli autori di telegram ed è proprio questo che ha fatto storcere il naso agli esperti di sicurezza perché per quello che ho potuto capire secondo gli esperti ci si dovrebbe sempre affidare a protocolli testati e riconosciuti e non andare a creare qualcosa di nuovo c'è da dire però che telegram ha fatto un contest in cui venivano messi in palio 200.000 dollari per chi fosse riuscito ad hackerare questo protocollo proprietario e nessuno ci ha riuscito e ha vinto il contest quindi forse dobbiamo sperare in questo senso è difficile pensare che nessuno ci abbia provato ecco sono belle cifre sono belle cifre qualche d'uno avranno qualche d'uno avranno fatto gola invece l'altro tipo di criptografia che è quella end to end che è delle chat segrete è stata messa un pochino in dubbio per il chiave di criptazione che viene usata per la chiave scusatemi di criptazione che viene usata perché è una specie di QR code se voi lo vedete nelle chat segrete c'è un'immaginetta con tanti pixel sulle varianti del blu di Telegram invece normalmente si usa una stringa alfanumerica però anche in questo caso Telegram ha fatto un contest stavolta metteva in palio 300.000 dollari e nessuno è stato in grado di hackerare il sistema e di vincere è chiaro che anche qui va fatto un distinguo di situazioni per esempio Durov stesso ha consigliato agli attivisti che si trovano nei paesi con regimi repressivi di attivare per Telegram ma anche per tutte le applicazioni che lo consentono l'autenticazione a due fattori ora che ti devo dire io non sono un attivista non sono Giuliano Assange non sono Snowden quindi poi in generale mi preoccupo relativamente della privacy perché sto su Facebook Google Twitter gli ho messo in mano tutti i miei dati quindi per me la privacy è un problema relativo è chiaro che io non ho gli stessi nemici che sono interessati a sapere quello che io faccio di quelli che può avere un attivista o Snowden come abbiamo detto quindi dipende un attimo dalla situazione in cui siamo e lo scopo per cui vogliamo usare quella chat segreta su questo hai perfettamente ragione adesso magari nessuno di noi è un attivista o un terrorista che può usare queste cose però manca un'azienda che parla delle mancanze di un prodotto di un servizio con un cliente non vuole che questo venga messo alla berlina ecco proprio parlando di aziende Telegram ho visto che viene usato un sacco di volte per fare assistenza ai clienti bene usavamo Twitter per fare assistenza ai clienti dobbiamo usare Facebook per fare assistenza ai clienti e avere l'autorisponditore che gli dice che prenderà in carico la sua richiesta insomma è un ennesimo canale di comunicazione che le aziende dovrebbero aprire ci spieghi perché dovrebbero farlo e perché dovrebbero mettere energie in questo nuovo canale perché è lavoro sono anche costi ecco oltre che sicuramente vantaggi ci racconti un po' ci spieghi un po' come come possiamo orientare i nostri clienti e le aziende che ci stanno ascoltando ad utilizzare questo ed investire su Telegram sì allora il discorso è giustamente quello che fai tu cioè che tutti si stanno muovendo un po' in questo senso spostare l'assistenza ai clienti sui social lo ha fatto anche Facebook per esempio aggiungendo delle funzioni specifiche alle pagine e a Messenger esistono le live chat già implementate sui vari siti di diverse aziende io credo che il succo del discorso sia assistere il cliente tramite il canale a lui più congeniale e magari anche in mobilità siamo noi che dobbiamo andare dal cliente non ci dobbiamo far cercare poi quella che poi diventa una ricerca disperata in molti casi questo perché perché secondo me l'assistenza cliente è fondamentale in un'ottica di fidelizzazione del cliente fa parte di quella famosa fase del delight dell'inbound marketing un cliente non va abbandonato a se stesso al momento dell'acquisto ma va seguito nel post vendita e oltre appunto per deliziarlo perché chiaramente un cliente felice non è solo un cliente fedele ma è anche la migliore pubblicità che possiamo sperare di avere soprattutto in un momento come questo in cui in tantissimi si affidano alle recensioni online appunto word on mouth il passaparola fa veramente tanto quindi è chiaro che come per qualunque altro canale va valutato se il proprio target di riferimento è lì oppure no ma almeno una prima ricerca va fatta secondo me cioè le aziende non sono obbligate a essere ovunque ma devono assolutamente sapere dove è necessario che siano ora poi da qui il mio aspicio è che le aziende non usino le possibilità di automazione offerte da telegram per creare una replica delle risposte automatiche che già possiamo trovare sui loro siti o ascoltare i loro numeri di assistenza clienti sarebbe veramente molto triste e molto frustrante per il cliente che tutto diventerebbe meno che felice insomma e mi permetto di aggiungere anche un'altra cosa sui possibili usi di telegram nelle aziende che va un attimo oltre il discorso del customer care io credo che telegram potrebbe diventare uno strumento molto utile per la comunicazione interna della quale io sono grandissima fan forse perché ho vissuto più casi in cui non c'era o non funzionava e l'ho sognata veramente tanto e perché io penso insomma che ci si debba ricordare che dopo il cliente felice come migliore pubblicità c'è il dipendente felice che non è solo più produttivo ma diventa anche un grande sostenitore dell'azienda per cui lavora quella di cui parliamo spesso la famosa employee advocacy e chiudo dandovi un piccolo consiglio di lettura che forse il libro insomma alcuni di voi già lo conosceranno si chiama Delivering Happiness consegnare la felicità che è del fondatore e amministratore delegato di Zappos che è uno che ha costruito tutta la sua cultura d'impresa sulla felicità del cliente e sulla comunicazione interna beh molto interessante adesso questo consiglio di lettura come tutti gli altri link che citeremo insieme durante la puntata li mettiamo nelle note in modo che con un click glieli facciamo trovare tutti al fondo questo è un suggerimento interessante che anche io andrò a guardare con curiosità mi hai perfettamente convinto su questo ultimo aspetto poi ancora di più credo che sia uno strumento che può essere ragionato cioè possiamo fare dei ragionamenti approfonditi su questo e si può veramente fare tanto mi veniva da dire che magari un uso un po' più scontato è quello di utilizzare Telegram per fare marketing ora però non è così semplice perché è uno strumento un po' delicato perché va a entrare come un sms nel telefonino delle persone quindi bisogna stare attenti ci dai qualche suggerimento su questi aspetti sì fra l'altro mi sento di dire che è anche più potente di un sms perché in alcuni casi io ho un sms posso anche rispondere e mandare a quel paese una persona che me l'ha mandato al contrario i canali Telegram sono unidirezionali cioè io parlo e non ascolto quindi insomma ci dobbiamo sostanzialmente attenere ai principi base che secondo me almeno sono alla base del marketing fatto bene e che tornano tutti nello stesso punto cioè l'utilità ok essere utili a qualcuno non significa mai riproporgli un contenuto che può già trovare altrove quindi secondo me è del tutto inutile usare Telegram come ho visto fare in questi giorni di ricerca da vari per esempio da varie testate anche internazionali per riproporre tutti i tweet tutti i link a tutti gli articoli e cose di questo genere è invece fondamentale creare dei contenuti che siano ad hoc per il canale Telegram per esempio io mi sono fatta venire qualche idea ok ve le racconto poi assolutamente ognuno si farà girare le rotelline allora per esempio potremmo lanciare delle offerte dedicate agli utenti del canale che ne so uno sconto nel nostro negozio o un aperitivo gratis e magari potremmo vivacizzare la cosa organizzando una sorta di caccia al tesoro proprio nel nostro negozio dove il tesoro è che ne so un buono sconto e fornendo gli indizi solo nel canale Telegram questo che significa che promuovendo il gioco sul sito e sugli altri canali social che abbiamo a disposizione riusciamo in questo modo ad avere più iscritti al canale Telegram ma anche nuovi utenti che vengono a visitare il nostro negozio questa è un'idea ed è anche semplicissima ma insomma non è neanche così malvagia ecco abbiamo parlato di customer care via chat però volendo secondo me anche i gruppi possono essere usati in questo senso ho immaginato nel settore B2B per esempio mettiamo che la mia azienda fornisca un software ad altre aziende beh potrebbe fare assistenza a team di lavoro utilizzando un gruppo privato di Telegram perché come abbiamo detto poco fa anche l'assistenza è marketing o ancora sempre per i gruppi anche i canali televisivi secondo me potrebbero sfruttarli se vi ricordate la RAI ha già fatto esperimenti di social tv facendo se non ricordo male chattare i protagonisti delle fiction con il pubblico nel momento in cui andava in onda la puntata ecco lo potrebbe fare direttamente su Telegram in modo da evitare allo spettatore di andare sul sito RAI è sempre come dire un tentativo di seguire l'utente dove lui è e poi c'è tutto il mondo a parte dei bot che ci fa aprire naturalmente mille scenari io ho trovato una sperimentazione molto interessante che hanno fatto in America che non è stata fatta con Telegram ma secondo me può dare un ottimo spunto in America va molto forte un'applicazione che si chiama Kik che è sempre per la messaggistica istantanea esiste da diversi anni e ha i bot e ha un'utenza molto giovane che ama chattare con questi bot allora che cosa hanno fatto due case cinematografiche hanno colto la palla al balzo e hanno creato dei bot con la personalità e le storie dei protagonisti del loro film e li hanno rilasciati nello store di Kik molto prima dell'uscita dei film nelle sale pronti a chattare con gli utenti creando in questa maniera una grande attesa che secondo me è una mossa non nuova perché in qualche maniera mi ricorda la campagna di marketing che fu fatta per The Blair Witch Project ma intanto coglie nel pieno il mezzo e poi ha molte più potenzialità è verissimo è verissimo Kik veniva usato tantissimo dalle community su Instagram per poi tenersi in contatto soprattutto quelle americane di giovanissimi e quella è una bella idea a me mentre parlavi veniva in mente che anche alle fiere quando un'azienda ha un canale Telegram può ricordare agli utenti che in quel momento sta per iniziare un evento sullo stand quindi in realtà ci sono tanti utilizzi anche banali così di messaggistica di servizio che possono contribuire all'attività marketing che fanno le aziende ecco la preoccupazione per me è però un'altra non è che aggiungendo notifiche a notifiche io ricevo le notifiche di Instagram le notifiche di Twitter le notifiche di Whatsapp ma anche quelle di Facebook e di tutti gli altri aggiungiamoci anche quelle di Telegram non è che veniamo percepiti come un po' una scocciatura o è l'ennesimo disturbo che distoglie la nostra attenzione allora la preoccupazione è più che legittima anche perché l'abbiamo detto abbiamo uno strumento potente nelle mani però se partiamo dal presupposto che i contenuti che creiamo per i nostri canali Telegram sono esclusivi utili e di qualità secondo me non corriamo il rischio di diventare fastidiosi semplicemente perché quando parliamo di qualità secondo me escludiamo dall'equazione la quantità quindi io credo che si tratti di pubblicare al massimo e dico al massimo uno o due contenuti al giorno ma anche meno e che siano specifici e curati nel dettaglio io credo che con questi canali Telegram ci possiamo finalmente permettere il lusso di tornare ad agire con un pochino di calma cioè non dobbiamo stare sul pezzo a tutti i costi pubblicare l'ultima novità sentita o scrivere tutto quello che ci passa per la testa solo per riempire il vuoto dobbiamo tornare ad avere un pochino di rispetto per i nostri utenti e anche per noi chiaramente un discorso diverso io lo farei per i bot per le chat e per i gruppi perché sono un mezzo a cui in genere l'utente stesso richiede la notifica per esempio penso ai bot di news oppure a quelli che danno avvisi sul traffico e chiaramente alle chat di assistenza clienti su questo mi fai venire in mente un'avvertenza cioè non date alle mamme degli asili in mano telegramme non dite loro perché tu vieni buttato dentro un gruppo di donne inviperite che devono decidere tutto dal regalo alla maestrina è una roba assurda oppure i gruppi dei vecchi compagni di scuola o del bar che ti buttano dentro a una royal rumble dove ognuno dice un po' quel che gli pare non capisce niente ecco cioè non si capisce proprio niente e alla fine si cerca di togliersi però dopo dicono ah no ti sei tolto ma perché cioè diventa un caso diplomatico ecco come si governano a questo punto i gruppi c'è la possibilità di moderarli di gestirli in maniera un pochettino meno invasiva nelle vite delle persone ecco ma più utile a loro allora telegramma ha due tipi diversi di chat multiutente cioè i gruppi che sono fino a 200 persone e i supergruppi che possono avere fino udite udite a 5.000 membri 5.000 mamme scatenate dell'asilo aiuto ecco sarebbe una totale follia ora c'è anche la possibilità di trasformare un gruppo in supergruppo perché magari può succedere che si stia espandendo io per esempio in questi giorni mentre facevo un po' di ricerche ho incontrato tantissimi gruppi di giocatori di vari giochi che sono molto attivi sui forum e adesso sono molto attivi su telegram ora più di 200 persone da gestire sono veramente tante e proprio per questo telegramma a marzo ha aggiunto delle funzionalità particolari per i supergruppi nei supergruppi solo gli amministratori possono aggiungere nuovi utenti cambiare la foto e il nome del gruppo in più hanno la possibilità di cancellare uno o tutti i messaggi di un utente di bloccare un utente specifico e di segnalare contenuti come spam sempre a partire dall'aggiornamento di marzo gli amministratori dei supergruppi possono fissare in alto un messaggio che magari io ho pensato può contenere le regole di comportamento come si faceva appunto nei forum ma anche ora ho scoperto anche che esistono dei bot che vengono in aiuto agli amministratori dei gruppi vi parlo di un bot in particolare che si chiama Group Help che è stato scritto da uno sviluppatore italiano ma dai allora Group Help sì e gli italiani sono molto molto attivi su Telegram e anche a livello di bot poi mettiamo magari un po' di link nelle note dello show così vi facciamo trovare anche un po' di cose interessanti in giro per internet allora vi dicevo Group Help deve essere aggiunto come amministratore del gruppo quindi avrete un bot come amministratore del gruppo oltre agli altri amministratori e vi aiuta a espellere o cacciare definitivamente un utente o più utenti insomma quegli utenti che voi ritenete che stiano facendo spam per esempio in più ha anche un filtro anti-float che significa che permette di espellere o bandire gli utenti che mandano molti messaggi in un arco di tempo troppo limitato e vi dà anche un'altra possibilità e cioè quella di selezionare e nominare dei moderatori che possono aiutare gli amministratori nella gestione del gruppo è molto 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 completo e molto complesso quindi magari anche il discorso dei bot lo approfondiamo fra un po' certo adesso questa questa possibilità in più che viene data sicuramente è una bella cosa perché io sperimento proprio che ci sono persone che magari hanno quel quarto d'ora libero non sanno sono in attesa dal dentista e si scatenano e tu ti ritrovi 180 messaggi da leggere perché magari ti hanno buttato dentro il gruppo degli ex compagni di scuola e tu ti senti anche in dovere almeno di darci una letta ma è tutto tempo che vai a perdere una cosa che invece mi piace tantissimo di Telegram io lo uso sia a livello professionale diciamo in un'azienda diciamo una start-up ci scriviamo su Telegram e siamo molto contenti perché ci resta tutto il tracciato possiamo passarci anche a legati grossi eccetera ma la cosa più divertente è quella degli sticker perché riescono a comunicare molto più delle parole a volte no? gli sticker sono quelle immaginine che tu puoi mandare al posto di scrivere testualmente non sono solo emoticon sono anche foto ne ho viste di tutti i tipi ci sono gli hipster barbuti c'è razzi c'è ci sono i personaggi del trono di spade ecco c'è di tutto questi questi sticker però la domanda che voglio farti è possono essere utili anche a caratterizzare la nostra comunicazione aziendale o fare semplicemente brand awareness come possono essere usati meglio allora ti devo dire che quello che mi piace tanto di telegram è che chiaramente come ogni strumento nuovo e che viene utilizzato solo da poco stimola la creatività cioè non esiste una ricetta già scritta devi metterti lì e far girare le rotelline e sperimentare con gli sticker come possiamo sperimentare me lo sono chiesta e ho fatto girare un po' le rotelline io credo che intanto possono essere una forma interessante di user generated content per esempio un'azienda potrebbe organizzare dei contest che prevedono la creazione di sticker e coinvolgere i propri utenti in questo modo vuol dire chiaramente rafforzare la relazione con loro gratificarli ma anche stimolare meccanismi di advocacy per quanto riguarda la brand awareness possiamo immaginare che un'azienda crei degli sticker così divertenti o coinvolgenti da incoraggiarne anche la condivisione fra gli utenti si potrebbero lanciare anche degli hashtag specifici per esempio o ancora probabilmente anche le onlus e le ong potrebbero usare gli sticker personalizzati naturalmente magari legandole a campagne di sensibilizzazione specifiche penso che abbiamo tante opzioni ecco hai perfettamente ragione ci sono tantissime possibilità anche per il no profit di farsi notare e per sviluppare diciamo brand awareness sulle loro attività no no molto giusto quello che dici parliamo invece di una cosa che abbiamo accennato prima magari la approfondiamo un po' perché credo che gli ascoltatori siano interessati a capire un po' meglio cosa sono i bot cioè anche banalmente per chi li ha sentiti nominare suonano come robot ma in realtà cos'è un bot allora detto in parole semplici un bot è un'applicazione in grado di rispondere automaticamente a dei comandi usando telegram noi possiamo interagire con questi bot che qualche sviluppatore avrà creato avviando delle conversazioni con loro e possiamo usarne le funzionalità anche nei gruppi come vi dicevo prima per riuscire a chiacchierare con i bot dobbiamo chiaramente conoscere i comandi a cui loro rispondono e in generale questi comandi ci vengono spiegati dai bot alla prima interazione tra l'altro gli sviluppatori possono rendere i comandi visuali non solo slash e il testo del comando ma possono essere inseriti per esempio usando la tastiera in line quindi in questo modo renderebbero le cose molto più semplici agli utenti che magari giustamente non sono esperti di questo tipo di cose ho visto che diverse settate giornalistiche stanno sperimentando da un po' con i bot e direi che a livello internazionale forse i più interessanti sono i bot di Forbes e TechCrunch che sono molto simili e in Italia il bot del Corriere della Sera e quello della Repubblica anche questi praticamente identici ma mi pare che quello del Corriere funzioni un pochino meglio sia fatto un pochino meglio poi vi segnalo sperando che non serva mai a nessuno un bot di pubblica utilità che secondo me ha delle belle potenzialità che è stato sviluppato da una società che si chiama Net WinTech che è una società toscana per l'ospedale di Siena questo bot offre la possibilità di calcolare il percorso per arrivare all'ospedale ma è anche in grado di dire all'utente agganciandosi sostanzialmente alla rete dell'ospedale quante persone ci sono in coda al pronto soccorso e che tipo di codice hanno io direi che offre un bello spunto alla pubblica amministrazione ecco interessantissimo questa cosa qui non ci fermiamo assolutamente regalaci qualche altra chicca qualche altro bot che ci vuoi segnalare perché veramente ci stai attivando la fantasia è un mondo molto più grande di quello che sinceramente mi aspettavo eh sì è proprio così allora io vi segnalo non vi segnalo i soliti bot che ho letto dovunque per esempio a me delle previsioni del tempo non me ne frega niente quindi vi segnalo dei bot che io ritengo possano avere una valenza per un uso professionale il primo in assoluto perché io sono una maledetta che quando si sede a lavorare non stacca mai quindi posso anche fare 12 ore di filato è un bot che si chiama pomodoro timer che si rifà alla famosa tecnica pomodoro e quindi vi fa settare degli intervalli di tempo per lavorare e soprattutto anche per fare delle pause che servono se no poi gli occhi vi cascano dalle orbite e ti dà degli intervalli preimpostati da 5, 15 o 25 minuti oppure un'intera sessione che è fatta da 4 intervalli da 25 minuti con pause da 5 minuti naturalmente ti notifica quando è ora di lavorare e quando è ora di fare pausa poi interessante per i gruppi c'è un bot che si chiama RSVP cioè che serve appunto a stilare una lista dei partecipanti a un evento penso che possa avere una sua utilità anche appunto a livello professionale dopodiché parliamo di statistiche c'è un bot che si chiama Botan che può tornare utile agli sviluppatori perché fornisce statistiche piuttosto dettagliate sull'uso del proprio bot e sempre a proposito di statistiche c'è anche Channel Stats Bot che serve a tenere d'occhio il numero di membri di un canale e la sua variazione nel tempo quindi una sorta di Google Analytics della presenza dei follower sul tuo canale Telegram sì anche se chiaramente con dati limitati perché al momento sono quelli che abbiamo quindi iscritti e visualizzazioni ecco vabbè non è poco non è poco ascolta continua a farci sognare un attimo ci racconti qualche caso di successo in ambito quello che preferisci ecco qualche caso di successo di chi ha usato Telegram e ha fatto cose interessanti come quelle che ci hai raccontato finora allora faccio una premessa ovvero che come ti dicevo non abbiamo ancora in mano delle metriche che dal mio punto di vista siano particolarmente significative nel senso che noi possiamo valutare il successo di un canale solo attraverso appunto quelle che per altri canali chiameremmo le vanity metrics cioè gli iscritti e le visualizzazioni dei messaggi ora direi che il numero di iscritti può essere considerato più significativo dei like a una pagina facebook perché su facebook metti un like e poi nella maggior parte dei casi ti dimentichi anche che quella pagina esista un canale Telegram invece anche se disattiviti le notifiche ce l'hai spesso sott'occhio anche perché ho notato che appunto i canali vengono rimessi in alto nella lista delle conversazioni ogni volta che pubblicano un nuovo contenuto le visualizzazioni invece sono un pochino un dato un po' più astratto perché non è che ti diano la misura del coinvolgimento a meno che qualcuno non ti dia un feedback altrove e poi ci sarebbe da capire ma questo lo sanno solo i gestori dei canali quanti cliccano su link insomma ci sono ancora un pochino di cose da capire perciò non so in che misura diciamo possiamo parlare di casi di successo però vi racconto un po' di dati che ho trovato che comunque secondo me sono interessanti il primo che vi voglio dare è sul canale telegram ufficiale che probabilmente è uno dei più seguiti che ha 68.000 membri e a volte arriva anche a 100.000 visualizzazioni dei contenuti questo perché perché telegram calcola nelle views anche quelle che avvengono quando viene inoltrato il messaggio a qualcun altro quindi sembra un dato incongruente 68.000 membri 100.000 views ma in realtà è perché qualcuno l'ha inoltrato a qualcun altro ecco dopodiché c'è un caso che mi ha colpito che è io l'ho chiamato il caso delle offerte c'è un canale spagnolo che pubblica solo offerte quindi sconti online offerte su Amazon roba di questo tipo che ha 30.000 membri con una media di 20.000 visualizzazioni eppure in Italia i numeri non sono mica male nel senso che ci sono almeno due canali ben nutriti che sono la pagina degli sconti che ha 13.000 membri e Tariffando che ha più di 7.000 membri quindi insomma sono cifre non male fra l'altro io penso che sia abbastanza chiaro che i gestori di questi canali stiano monetizzando con l'affiliazione perché immagino che tutti i bei link che mettono siano affiliati e hanno appunto un grandissimo seguito io da un punto di vista di quotidiani ho trovato l'uso che ne fa la stampa quello più interessante perché secondo me si è calata nel mezzo infatti usa un registro assolutamente colloquiale per dare le notizie proprio come se stesse conversando con gli utenti a volte dici anche buongiorno per esempio e soprattutto cosa che io trovo molto intelligente non si limita ai link e ai sommarietti ma usa anche gli emojis e le gif in questo momento ha 2000 membri quindi come sentite sta sotto ai canali delle offerte però comunque rispetto ad altri canali è ben piazzata perché mi pare che solo Word Italia sia su queste cifre qui e ha una media di circa 1000 e 2000 visualizzazioni per ogni contenuto ma non è male non è male eh no non è male non è male gli altri giornali sono molto sotto adesso non li nomino ma ce ne sono alcuni anche sui 100 200 membri e vabbè per forza se li usano come dei feed RSS la gente ce l'ha già quello sostanzialmente è quello che fanno o sono la copia di Twitter o sono un feed RSS a me non me ne importa nulla di avere di nuovo il link chiaramente no sì ho altri ho altri luoghi dove li consulto quel tipo di informazione lì la fruisco altrove non la voglio sul telefonino esattamente ho una cosa interessante di Telegram che è molto dedicato a se stesso nel senso che ci sono molti utenti che creano dei canali e dei gruppi che parlano di Telegram stesso e in Italia ce n'è uno che sta andando parecchio che ha quasi 3000 membri che pubblica delle notizie su Telegram ma fa anche una sorta di segnalazione di canali bot gruppi e stickers particolarmente interessanti in più il gestore di questo canale si è inventato un modo per monetizzarlo nel senso che fa un servizio di sponsorizzazione vi parlo di un altro canale che è ancora piccolino ma secondo me merita davvero una menzione d'onore che è Roma Trasporti News perché merita una menzione d'onore perché secondo me sta facendo un gran servizio sì secondo me salva la vita a tutti quelli che devono andare a Roma perché dà appunto le notizie sui trasporti e sulla situazione del traffico romano fra l'altro facendo una specie di bollettino radio ogni mattina che è audio e poi mandando nell'arco di tutta la giornata con emojis associate è chiusa la strada tal detali il mezzo tal detali passerà con 8 minuti di ritardo cioè è una cosa pazzesca ed è fatta da 4 ragazzi quindi voglio dire pubblica amministrazione dai un'occhiata e fai qualcosa anche tu voglio dire anche l'Atac o tutti quelli che gestiscono i mezzi pubblici d'Italia potrebbero prendere un grosso spunto ecco a proposito di enti pubblici e anche di servizi di utilità vi segnalo senza menzione d'onore perché secondo me per ora non sono al loro massimo stanno ancora sperimentando che su Telegram sono sbarcati ben tre ministeri ovvero economia estri e istruzione poi ci sono un bel po' di comuni e ci sono anche alcune sezioni territoriali della protezione civile insomma non è male dare anche l'allerta meteo o qualunque cosa sia in questo modo ora vi parlo di un ultimo caso che è quello di Giuliano Ambrosio ovvero Julius Design che forse molti di voi già conosceranno che sta usando ha usato perché credo che abbia finito il ciclo il suo canale Telegram in una maniera molto interessante perché si è inventato un podcast esclusivo per Telegram che dura pochi minuti e soprattutto pesa pochissimo con cui lui solitamente il venerdì dava le ultime news sui social media io credo che questo sia un contenuto veramente giusto per il tipo di mezzo su cui lo si propone se noi pensiamo che chiaramente Telegram in generale lo usiamo da telefono quindi stiamo camminando stiamo guidando non abbiamo grande banda o rete a disposizione quindi un podcast che ha audio ci permette di fare altro nel frattempo e pesa poco quindi non ci mangia i giga che abbiamo pagato ti sarai accorto che io in tutto questo Mare Magnum non ho menzionato neanche un brand perché io l'ho cercato il brand ma non li ho trovati e non so se sono stata non sono stata brava io o forse loro ancora non si sono accorti di questo nuovo mezzo che hanno a disposizione diciamo che spero che aprano gli occhi presto anche perché c'è qualcuno che invece degli investimenti da questo punto di vista li sta facendo sto parlando di due piattaforme di due tool che servono per gestire social una che forse era quella scontata che inserì per l'inserimento di telegram all'interno della propria piattaforma è cucu ed è scontata dico io perché è una piattaforma russa quindi è una connazionale di telegram l'altra meno scontata ma molto avanti sugli altri competitor internazionali è l'italianissima post speaker che qualche tempo fa ha inserito per prima telegram all'interno della sua piattaforma e quindi con post speaker noi possiamo se vogliamo programmare i contenuti che vogliamo mandare su telegram ora io mi chiedo e ti chiedo che ne dici i brand si accorgeranno di telegram fra un po' francamente penso che i brand abbiano piena consapevolezza dell'esistenza di telegram forse stanno mantenendo questa posizione attendista per vedere banalmente che cosa farà whatsapp in termini dei servizi cioè quello che ha telegram lo aggiungerà con un click whatsapp oppure no del resto whatsapp ha un numero incredibile di utenti che è difficile mollare questo canale per un altro poi in più c'è da dire che un nuovo canale di comunicazione apre delle problematicità e una complessità che non sempre sono banali specialmente se si vuole seguire il canale bene quindi è normale credo che i brand siano un po' più lenti magari un freelance preso d'entusiasmo apre il canale telegram è più facile per lui ma una grande azienda deve strutturare un processo e non sempre ha le risorse per farlo ascolta già da noi abbiamo esaurito il tempo a disposizione che è volato letteralmente volato abbiamo imparato un sacco di cose e per questo ti ringrazio e gli ascoltatori sicuramente vorranno mettersi in contatto con te dove ti trovano online allora il mio handle di twitter è quasi ovunque è chiocciola già da 100 con il 100 a numeretto allora ho un sito però al momento da secoli in ristrutturazione sembra la tela di Penelope che lei durante il giorno fa e la sera di spa perché non sono mai contenta ma lo trovate nella bio di twitter naturalmente quindi se mi trovate su twitter poi mi avete trovato ovunque perfetto grazie Giada è stato un piacere averti qui ci hai insegnato tantissime cose nuove terremo insieme sott'occhio telegram per le sue evoluzioni a presto di ascoltarci grazie a presto grazie bene siamo arrivati al termine anche di questa puntata in cui abbiamo parlato di telegram come sapete dagli episodi scorsi ci siamo posti l'obiettivo di raggiungere 100 recensioni su itunes per natale ora siamo a 65 e se siamo cresciuti devo ringraziare Silvia Todd Giulia Tosato gommista web 45 e vi 1987 perché hanno voluto impiegare un po' del loro tempo per lasciare una recensione sulla piattaforma della apple cioè sulla piattaforma di itunes per un podcast è molto importante perché se da un lato è vero che è una gratificazione ricevere una recensione positiva come quasi tutte quelle che ci avete lasciato dall'altra parte è un'opportunità che avete voi ascoltatori per comunicare al podcaster come cambiare come migliorare cosa modificare del format della puntata per rendere il podcast sempre più interessante per voi quindi è una situazione veramente win-win grazie quindi per essere stati oggi con Giada e con me spero sia stato un episodio ricco di spunti utili per voi e per la vostra attività se avete voglia di farmi sapere la vostra opinione fare una domanda a Giada su Telegram oppure semplicemente lasciare un saluto potete usare i commenti alla pagina www.merita.biz barra 33 come il numero della puntata di oggi barra 33 tutti gli appunti e i link citati durante lo show li potrete trovare lì se hai apprezzato il podcast o hai voglia di lasciare semplicemente un feedback sulla trasmissione puoi anche utilizzare la pagina merita.biz barra love L-O-V-E dove trovi tutte le indicazioni per lasciare i tuoi suggerimenti e far conoscere ad altri i contenuti interessanti che hai ascoltato bene davvero tutto per oggi io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita Business Podcast ciao ciao